Ciao, sei un imprenditore del settore turismo? Allora possiamo aiutarti! Sono Paola Tolin della rete Enterprise Zero Network Italia e queste sono tre cose che possiamo fare per te. 1. Possiamo indicarti come rendere la tua attività più digitale e sostenibile. 2. Possiamo aiutarti a crescere a livello internazionale e trovare i partner commerciali giusti per te. 3. Se hai bisogno di informazioni sulle opportunità di finanziamento a livello nazionale ed europeo per le strutture turistiche, siamo pronti a guidarti. Siamo qui per aiutarti, allora mettiamoci in contatto!